Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi dove per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone sono possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Sempre sulla FIPLi due chilometri di coda per lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione Livorno. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie e buon viaggio!